Dopo le polemiche in altre città, anche ad Arezzo, sono arrivate le vele, i manifesti che lanciano dei messaggi contro l'aborto, in questo caso è l'associazione Ollus Pro Vita Mamma non ti pentirai di avermi avuto e se proprio non puoi tenermi con te, dammi in adozione, fammi vivere Mamma non sei sola, se hai bisogno di aiuto chiama e c'è un numero quindi nei giorni in cui si celebra il quarantennale dell'entrata in vigore della legge sull'aborto dopo uno dei più noti referendum, battaglie referendarie dei radicali e quindi c'è un dibattito anche sui troppi medici obiettori c'è un dibattito sul fatto che alcune parti di questa legge non sarebbero applicate allo stesso modo però i movimenti pro vita stanno lanciando un messaggio forte e questo forse è anche più blando rispetto ad altri comparsi in altre città ma si vuole far passare il messaggio che una gravidanza anche non voluta non necessariamente deve portare all'aborto vedremo ad Arezzo quali reazioni ci saranno e se anche qui si chiederà come è accaduto ad esempio a Roma di rimuovere questo tipo di messaggi o se potranno aprire un dibattito democratico come dovrebbe essere